saluti e ben agata usumei noza sul gazzettino in sardo dei canali 40 via usuita con tessili o in di martesi 25 del capo d'anni su processo a sex sindico dei portescusi portescusi su processo sex sindico adriano Puddu si incurpa preguntare a reconfirma e sa gondanna de 6 annuso e 4 mesi si esti su processo de 2 sagrados in sa primo sentenza Puddu hai arricci una gondanna po' induzione in debita dare o promettere utilità e stannai chi ha riimpera osa autorità istituzionale cosa sua postrumbullare galincuno a manera chi donnessi da issu galincunato dinario venisi da altra natura una contessia leongiara a favore simento su sessualisi presuntusu a riciruso dai femminas a giovanas a giuraras a dei servizi su socialisi su processo non con su residenti dessa corte d'appello Claudio Gatti sarà fai a enna sa serrara sa poita punti del compurai scontestazioni si con vittima sa deamparai scetti su sostituto procuratori Maria Grazia Genoese a ripreguntare con firma dessa gondanna ai cento altrui sabati civili Salvatore Casula il sabogaso del porco Ivano Lai e Giuseppe Andreozzi anta va e dai sudici del viaggio antesi dessa sentenza vacinoso isaverara sa desu nas meni scola sa e logo desu riminciu de lezioni si su draballo des carabinieri si desu nas de gasteddu in carao a averai apizzo deis autocertificazioni si le vacinoso vattoso ai spi più su chi vunti in trendini scola e staccavao con zetti denuncias a in particolare anti denunciau tres personisi in sa provincia de su sud sardigna e quattro me in sa provincia de alistanisi sin curpa esti de vrasso ideologico de chi is babuso e mammas andirene tinegi poi declarau a esi scola sa de hai cumpriu s'obbligo de vacinoso is fainasa des carabinieri si desu nas se muntis bodicara sa per i vinti scola sa e anti spriculau già milla e duzentus autocertificazioni si menisatras a provincia sa isaverara sa no antidorrau irregaloridadisi per una furiera a malus su gallenti a bella vellus in dispesara su bollettino de sa protezione civili bessio a riseo a parara un'allerta poventu vorti e undarasa brusche totu antesi curpiasa e lacanase desu nord-est des isula a un diseffetto de santi ciclone des azzorrasa sa rintendi de ruso subentu su estu aressi bintu da essu grecali che arassu ai vorti vienasa a crasi merculisi bintisesi a riseo un'arara assaeronautica militari subentu estu a ritirar o vienasa a settanta chilometros a sora e dai gustu primunotti santa pesa in nuasa a primi incendi dai nord-est vienasa a si spainai veritotto su gelo da sardinia acqua a capasso brusche totu intre sudretto orientale des isula con ventus vurriendi a grecale i stemperaturas anta calai con i massima sa intres bintunusu e i bintiginco grausu sa furriara dessa lei urbanistica cristiano e rio assessori esentesi del logo e su urbanistica con d'una littera privada a su governadori dessa sardinia pigliaru annunciara sul ritiro dessa lei urbanistica o dupediri su coro dessa regione o vunti il numero su chi mancanta il numero su evvina sa sa gana e sa fico politico possigli di gustandala e rio esti cumbinto che una lei de gusta carità di non si pozzara cumpriri che nessu traballo cumprazio dedotto su assombra de accordi su consigliari si pago tra l'ugentisi e denunciara a piglierus a pago trasinatura des entisi de sul logo in istraballo su desterridura des salei in particolari narara che nos esteto a conto su parri de su consigli de is autonomiasa des su logo sa sessori preguntara a pigliaru chi su DDL torri in commissione poi ta mancari salei appara l'ompio a pustisi de traballo su una galidade vina ad retto de mediazioni politica, tecnica e normativa tutt'u gustu e sta contessio in d'uno contestu trullu mera e finasa gunterioso ad retto su bettiasa vina sa d'essa manca e tutt'u chiaripresentava una proposta de lei tutt'u simbressi de gusta dessa giunta un'operazione ghinohare agradissio a rio sa regionu narara a rio esti dentu scetti a pizzo dessa chistione de sismanio dei volumusu a intre trecentu metrusu dessa gosta cometi ghin salei non dovevesse riga piu altro un manigio del rettorica vato boistro bai su cumprimentu de una riforma benivatta su scrigiojo archeologico de Sant'Antiogo in fotografia ritratto di un uraghe esti giai gunminzara in Sant'Antiogo sa parada de fotografia sa vatta dai su professor Francesco Rombi iniziano su sessanta su traballo vi era parte de sadesi de laurea che Rombi e era prontato e arregionato ai nantesi de professor Giovanni Lillius sa grobara de immaginasa gapi ridotto si scusojo archeologico de s'isola de solchis immaginasa che amparante monumentus e mera de gustus non esistenti manco bruso Rombi vi era puro uno grande annoadori dei circasa archeologica in isaria extra urbana esti issu chiaricensio toto i nuragidi de Sant'Antiogo sa mostra ritratto di un uraghe si vuole di visitai vina sa su cattorgi dell'adamini anche su museo archeologico ferruccio barrecca informazioni simellu su mensa pagina internet desu museu grazias a poshoverai noasa su gazzettino sardu in sardu de canali 40 si torrauso a intendi luegusu sempre in noi adiosu